Ciao a tutti quanti ragazzi, sono Vittorio e oggi è arrivato il giorno della vendetta Perché, sì, se vi ricordate bene, nello scorso episodio, e tu muori, il Cotton Candy, questo qui che è chiamato il boss di Candyland, ci ha uccisi, esatto E adesso dobbiamo catturarlo, infatti come potete vedere, questa qua è la sua prigione che è già pronta per lui E ci sono anche gli altri boss che abbiamo catturato in passato, come Smash qua vicino, che scompare ogni volta che faccio lo zoom E anche Corallus che è qua fiacco, sono i due amiconi Ma adesso è arrivato il momento di catturare il re di Candyland, sua maestà zucchero filato gigante Ma lui è difficilissimo da catturare perché è immune alle armi da fuoco, alle spade, tranne che alle pacchette magiche Ma c'è un problema perché la pacchetta magica che abbiamo utilizzato nello scorso episodio, quella lì è l'unica pacchetta magica che non attacca Ecco perché non si faceva niente, però sono riuscito a trovare un'altra pacchetta magica che può andare a caso nostro Che è questa qua, la Fire Stuff, che c'è un danno di 5, però per fare questa bisogna craftarla E c'è bisogno di due stick, però c'è anche la runa di fuoco, che è questa qui, è un bel bordello trovarla E per craftare la runa del fuoco c'è bisogno di questi blocchi che si trovano sopra queste piattaforme Che spawnano sospese in aria, eccole, volete queste piattaforme qui? Ecco quel blocco che sta al centro, bisogna raccoglierlo, ok Romperlo così, raccoglierlo, ma si rompe? Non si rompe? Ah si si rompe, aspetta c'è bisogno del piccone Così, eccolo, prenderlo E poi bisogna fonderlo con una di queste piattaforme qua E ogni dimensione ha una sua piattaforma Per esempio, questa qui che vedete è del vento, ma a noi non serve il vento, serve il fuoco E indovinate dov'è che si trova la piattaforma del fuoco? Nel Nether! Nel Nether che però fortunatamente noi abbiamo il portale Beh, non potevamo rendere le cose troppo facili, no? Quando l'ho scoperto ho fatto una faccia incredibile Comunque, questo qua è il portale del Nether Che però tu, silenzio, taci, grazie Ok, adesso che abbiamo aperto il portale possiamo entrare Speriamo che sia facile trovare queste piattaforme Vabbè, comunque abbiamo l'armatura, abbiamo tutto Non dovrebbe succederci niente, spero Perché quando si entra nel Nether è sempre una paura Perché ci sta, in questo posto c'è la peggio feccia Ecco, infatti, appena usciamo già siamo stati attaccati Che cavolo sono sti cosi? Ma che sono? Non appartengono manco al Nether Oh mamma mia, non so cosa sia, non lo voglio sapere Cerchiamo questa piattaforma volante Oh mammina ragazzi, nel Nether Che cosa c'è? Guardate che cos'è sta roba È una tigre gigantesca No, no, no Ma che cavolo? Mi stanno sparando Mi stanno sparando dei militari? Dei militari ci sono nel Nether? Ragazzi, c'erano delle persone che mi stavano sparando con un fucile Non lo so cosa fossero e non lo vogliamo sapere Magari dopo andiamo a indagare meglio Allora, cerchiamo di trovare la piattaforma volante al più presto possibile Perché se no qua ci facciamo il viaggio Allora, uh! Cos'è questo? Cos'è? No, è un leone, è un leone, è lontano Mi sembrava una runa da lontano ma non lo è Portale Vabbè, comunque Eccola, l'abbiamo trovata È questa qui la piattaforma Adesso Per creare la runa del fuoco C'è bisogno che mettiamo il blocco di prima qua Eccolo E Ok, 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 ok L'abbiamo presa, l'abbiamo presa, l'abbiamo presa Adesso Possiamo tornare nel nostro mondo E craftare la La mondo Oh mamma, mamma, mamma Sto da fuoco Vattene, 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 vattene Ecco, prima ce ne andiamo dal Nether Meglio è Per tutti quanti Ok Perfetto Adesso andiamo alla nostra bellissima Crafting table E craftiamo Love wand Oh no, no Però tu vai via Vai via, vai via No, 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 no Ragazzi Non è proprio il momento di disturbare Ecco Tacete Tacete pure voi Per sempre Ecco Tu Tu vuoi fare a botte? Vuoi fare a botte tu? No Ok, se ne sta lì Tranquillo E invece sì Vuoi fare a botte Perfetto Allora Ah, ci servono gli stick I stick che dobbiamo prendere vicino agli alberi E certo Senza gli stick come fai a farlo? Abbiamo sempre tutto tutto quanto E poi ci manca la legna Che è la cosa più importante di tutte cose Per ottenere la bacchetta magica di fuoco Basta mettere due così E una qua Eccola Eccola qua La firestaff Finalmente È in mano nostra Che sembra poi Un lecca lecca gigante Questo qua Me lo mangerei tutto quanto O un segnale stradale Vabbè Comunque Ma io un lecca lecca Commentate secondo voi che cosa sembra E io metterò il curicino A tutti i vostri commenti Bene Adesso Per farlo funzionare Però Servono altre rune Perché se io provo a utilizzarlo Vedete non fa niente Non spara nulla Non fa nulla E servono Per farlo funzionare Allora là Ecco Servono due rune del fuoco E ce le abbiamo Due rune E due rune del vento Le rune del vento Che si possono facilmente ottenere Ovviamente anche in questo mondo Perché La piattaforma ce l'abbiamo là sopra Era quella giusta Se vi ricordate bene Ce ne siamo andati all'inizio dell'episodio Eccola E' lì che si fabbricano Le rune del vento Una volta ottenute Tutte e due Possiamo creare La nostra creatura Ok Le abbiamo prese Entrambe E adesso possiamo testare La nostra Bacchetta magica Di fuoco E la testeremo Su qualche nemico Qua vicino Su chi vogliamo testarla Aspetta So io dove sono i nemici Quelli vengono sempre Qua sopra a casa mia No Ma non c'è nessuno Quando servono Non si fanno mai vedere Mentre quando non servono Perché ci sono sempre Oh ma dove sono tutti i nemici Non ce ne sta mancuno Qualcuno che vuole provare Il lecca lecca di fuoco Non c'è eh Ah eccolo Eccolo Vediamo un po' Oddio Va 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 La bacchetta magica va Non ci posso credere Funziona Ah tu vuoi fare a botte Eh vuoi fare a botte Vuoi fare a botte Vai a fuoco Ah funziona la meraviglia Ragazzi Non ci posso credere Il momento che tutti voi Aspettavate È arrivato Adesso Cattureremo Il re caramello Oh madonna Oh madonna Oh madonna Oh madonna Oh ma come si esce da qua Aiuto Aiuto Ecco Dicevo Stavo dicendo Adesso potremmo catturare Il re caramello E là c'è una nave distrutta Bene Re caramello Re caramello Ok ragazzi Siamo pronti Andiamo Impicchiata Nel portale Mettete un like Adesso Per incoraggiamento 3 2 1 E Siamo tornati In Candyland Cercando La nostra Vendetta La nostra vendetta Sarà Sarà molto Molto Amara Amara Perché è l'opposto Del dolce Capito Ho fatto la battuta Bene Allora Io direi Che possiamo Già spawnare Il boss Oh ci sono già Degli scocciatori Ci sono già Ne vuoi un poco Ne vuoi assaggiare Anche tu di questo Con ciliegia Ecco Mangia Mangia il fuoco Mangia il fuoco Brava che fa bene Perfetto Oh Ragazzi Perfetto Abbiamo preso La treat bag Ora dobbiamo Soltanto Mangiarla E il boss Comparirà davanti Ai nostri occhi Ma questa volta Non andrà a finire Come l'ultima volta Vinceremo Buon appetito Mangia 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 Boss Dove sei Siamo tornati E più forti di prima Eccolo Eccolo Lo zucchero filato Puzzolente Adesso è arrivato il momento Della vendetta La pagherai cara Per aver ucciso Anche Dolce La nostra lumaca La nostra lumachina E la pagherai Per aver fatto perdere Tutte le armi Le munizioni Ma dove sei finito Dove sei Non ti vedo Aspetta Dove cavolo è finito Raga Non lo vedo più Raga ma dov'è Raga non lo vedo più Dove è finito Perché è tutto tanto rosa Non si riesce a capire Dov'è lui Perché lui è rosa Come il pavimento E si confonde Ah eccolo Eccolo L'ho visto Beccati questo Raga ma dov'è Non lo vedo più Ah eccolo Ti ho visto Vieni qua No ragazzi 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 Non si fa niente Manco con questo Non si fa nulla Ragazzi Ci sto provando Ragazzi Guardate 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 Non va più Non spara Non va più niente Ha annullato i miei effetti Non ci posso credere Le rune ce l'ho Le rune ce l'ho Come diavolo è possibile No raga Non ci credo Non ci voglio credere Non ci Guarda Non fa niente Non fa niente Mi sta soltando uccidendo Guarda Mi ha tolto Quasi metà vita Mi aveva tolto Mannaggia Te Muori Muori Ti devo Devi andare in carcere Nella prigione di Vittolet C'è già Il posto là Con il gabinetto Che ti aspetta Con la carta igienica Devi entrare là dentro Ecco A mangiare la sbomba Dei carcerati Ma raga Non mi va Non mi va più Non ci posso credere Come cavolo È possibile No Ragazzi Ci rinuncio Non lo so Oh da Chi cavolo sei tu Che è sto tizio Che è sto tizio Tizio Essere del male Brucia Brucia ancora di più Vedi le fiamme Le fiamme si devi sciogliere Devi diventare tipo Zucchero filato liquido Ecco cosa devi diventare Per avermi fatto perdere Tutti i miei Ma dove è finito Dove è finito Se te l'hai trasportato Quel vigliacco Brucia ancora Vuoi Ancora di più Brucia ancora di più Tornadere Da dove sei venuto E vai E mo No no Ancora l'è morto E' morto E' morto E' morto E' morto No scomparso Muori ancora Aaaaa Non ci credo La magia l'ha fatto diventare vulnerabile Anche alle armi E' morto Non ci posso credere ragazzi Adesso abbiamo anche la statuina Perfetto Adesso dobbiamo soltanto metterlo In prigione Però per farlo dobbiamo ritrovare il portale per casa Che non vedo Ciao clown Ehm Eccoci qua Perfetto Siamo tornati E adesso possiamo mettere Il cattivone Nella cella Che gli spetta Insieme ai suoi amici Non ci credo ragazzi Ce l'abbiamo fatta L'abbiamo catturato E siamo a tre boss Adesso piazziamo la statuina Nel posto che merita Il posto che merita E' questo qui Perfetto Perfetto Ah non so quanto mi è costato Perfetto ragazzi Io sono Vittorio Grazie mille Per aver visto questo video Vi voglio tantissimo bene E ci vediamo Alla prossima Ciao